Siamo tutte antifasciste! Siamo tutte antifasciste! Oggi come collettivo di scienze politiche abbiamo chiamato una mobilitazione, una controconferenza dove hanno partecipato studenti e studentesse da tutta la facoltà per dire di no alla presenza di azioni universitarie, a un'organizzazione fascista della Sapienza all'interno della nostra facoltà. Vogliamo lo stop agli accordi della Sapienza con la Leonardo, stop agli accordi con la filiera della guerra per la nostra università e saremo sempre qui per una Palestina libera e per un'università antifascista. Siamo tutti i sogni! È complice di guerra e ripetere l'usilio! Per questo abbiamo lasciato l'importanza della nostra facoltà di scienze politiche e venire qua! Ma abbiamo trovato le morte chiuse! Abbiamo trovato i rimasti di cazzo schierati che hanno chiuso l'intera facoltà! Un territorio, un pubblico adersa tranquille e trattesse! Costantivo è del partito! Questa è la reputazione dell'unfia universitaria! Questa è la democrazia che sia un'attività della appreciate!